Un tour tra i comuni della provincia, da Potenza fino alla Perla del Tirreno. Anche quest'anno torna la 500 km di Basilicata alla 17esima edizione dopo lo stop legato alle restrizioni della pandemia. Intanto, lo scorso weekend, l'Automobile Club Potenza ha promosso un raduno di autostoriche, ruote nella storia, a Muro Lucano. La manifestazione rientra nel programma nazionale che associa ai borghi più belli d'Italia le manifestazioni di autostoriche. Ruote nella storia è il format dedicato ai possessori di auto d'epoca che desiderano utilizzare la propria vettura di interesse storico in un contesto turistico e culturale di eccellenza. Tra gli appassionati c'è chi possiede una Fiat 508 o chi ha fatto il giro della Tunisia con la sua bianchina. Quando ho comprato la macchina tutta la gente mi diceva ma che cosa hai comprato un rottamico, un rottamico e tu non capisci i soldi te li mettevi da parte, ti compravi un'altra cosa. Invece io ho detto io i soldi non è che ci devo lavorare con i soldi, a me mi piace la macchina perché sono un appassionato da tanti anni e ho comprato la macchina. Questa storia l'ho presa usata, è completa, è originale tutta e la tengo con tanta passione. Sì, questa è un'Alfa 2000 del 1971, di unico proprietario, ancora è intestata a mio padre, con la quale naturalmente è con me da 51 anni, io ne ho 53, quindi sono nato, anzi più che altro sono cresciuto in questa macchina. L'automobile Club Potenza ha voluto portare a Muro Lucano questa manifestazione unica. Incredibili, quindi sono felice che il club di Potenza, dell'ACI di Potenza sia venuto qui e abbia scelto Muro Lucano per questa bellissima iniziativa che ha visto una bella partecipazione non solo di chi ha macchine storiche ma anche dei cittadini muresi e di molte persone venute da fuori paese che stanno ammirando la bellezza del nostro paese, dei nostri luoghi ma soprattutto di queste macchine che sono delle perle, dei tesori eccezionali che si incastronano benissimo nel nostro panorama. Questa edizione si caratterizzerà per essere praticamente la ridizione della ripartenza dopo i due anni forzati di stop di emergenza sanitaria e ripartiremo con rinnovato entusiasmo e con l'entusiasmo di sempre di voler dare agli appassionati della nostra regione ma anche all'esterno un evento storico per noi. Macchine importanti, soprattutto macchine recuperate molto spesso in zona, abbandonate da tempo nei pagliai, ristrutturate dagli stessi proprietari e questo per noi è una grande fortuna, motivo orgoglio.